Eccoci tornati live sulle fonti tv, ben trovati naturalmente a tutti voi in questa giornata dell'epifania che tutte le feste si porta via ma non i mercati che sono regolarmente aperti e quindi anche noi seguiamo l'andamento di un mercato che oggi è un po' sottotono, tanto per usare una sorta di eufemismo e che segue a ruota quello che è accaduto a Wall Street sulla piazza azionaria americana di ieri sera, nella contrattazione di ieri sera e ora italiana naturalmente sera e quello che è accaduto sui mercati asiatici questa mattina dove in particolar modo la borsa giapponese ha riportato quasi una perdita del 3%, il 2,80%. Anche i listini europei hanno iniziato le contrattazioni fin dalle prime battute di questa mattina in territorio negativo, fanno quindi fatica, la borsa di Milano è sotto pressione, perde oltre l'1%, scambia in pesante ribasso quindi insieme agli altri euro listini. A zavorare i mercati ricordiamolo, lo abbiamo detto più volte, concorrono ancora le indicazioni arrivate dalle minute della Fed dopo l'ultima riunione della Federal Reserve e naturalmente si attendono anche dei dati macroeconomici che a inizio anno possono essere davvero importanti, quelli sul lavoro lo sono sempre, danno indicazioni precise e mirate alla Federal Reserve e quindi si attendono in particolar modo. Come detto il Fuzzimib è in calo dell'1,24%, andiamo a vedere grazie alla regia, saluto ancora Matteo che mi segue anche oggi pomeriggio, vediamo anche il CAC di Parigi che cede l'1,29% e ancora l'Ibex di Madrid. Lascia sul parterre ha limitato un po' le vendite nel frattempo, però è sempre in territorio negativo, Lascia sul parterre lo 0,37% e ancora il DAX di Francoforte cede oltre l'1%, l'1,25%. E allora noi però siamo in un momento in cui vogliamo fare un po' il punto della situazione al di là delle contrattazioni odierne che seguiamo sempre con il nostro Le Fonti Advisory Update, cerchiamo di capire come leggete in sovrimpressione economia e politica vanno a braccetto soprattutto alla luce anche delle decisioni che sono state prese ieri di cui parleremo come inizia il 2022. Io ho il piacere di salutare, ringrazio per essere con noi anche oggi Francesco Anfossi, caporedattore Economia di Famiglia Cristiana. Francesco è un piacere ritrovarti su Le Fonti TV. Buongiorno, ciao, buongiorno, bentrovato a te. Allora, augurandomi che tu abbia iniziato bene il 2022, ti chiedo così con un collegamento, come è iniziato il 2022 per i mercati? Facciamo un po' il punto anche ribadendo quali sono gli aspetti, i temi, gli argomenti che ci porteremo appresso. Io vorrei essere ottimista, ma è un po' difficile in questo momento. Per i mercati è iniziato all'insegna dell'incertezza perché finché impazzerà questa nuova variante Omicron, che sembra meno devastante dal punto di vista dei danni sulle persone, ma è pur sempre una pandemia, non potremo mai avere delle certezze, non potremo mai avere dei mercati sereni e quindi valutare con la giusta ponderazione quello che sta succedendo. Nel punto di vista della politica interna sapete che il mondo politico italiano è in fibrillazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, che inizierà praticamente a febbraio, il suo nuovo mandato, e per quanto riguarda l'economia spicciola familiare che noi seguiamo molto, essendo famiglia cristiane ovviamente siamo molto attenti ai consumi delle famiglie, che inizia malissimo perché la RERA, l'Authority per l'Energia, ha calcolato che rispetto al trimestre precedente la bolletta dell'energia elettrica subisce un aumento del 55%, mentre il gas, la bolletta del gas subisce un aumento del 41,8%, che sono prezzi, sono aumenti folli, dovuti non certo alla volontà del governo, ma a fattori macroeconomici, a fattori esogeni come si dice in economia, perché c'è una crisi mondiale dell'energia dovuto anche al fatto che le potenze emergenti India e Cina continuano a succhiare energia e quindi l'energia ovviamente per la legge della madre offerta sale. E' stata fatta anche una simulazione. E peraltro proprio in queste ultime ore, perdonami Francesco, proprio da un punto di vista più strettamente finanziario, sta aumentando e è aumentato ancora il prezzo del petrolio e del gas, quindi questo dopo una breve pausa. Sì, se noi pensiamo a una crisi del Kazakistan che avrà delle riproduzioni anche sul piano energetico. Certo, certo. Comunque è stata fatta una simulazione, se a gennaio del 2021, per un'utenza con consumo medio, diciamo 1.500 metri cubi e riscaldamento autonomo, la strina della bolletta è stata di circa 980 euro all'anno, oggi per gli aumenti che ci sono stati ci ritroveremo una bolletta di 1.980 euro. Figuriamoci. 1.000 euro in più. Esatto, tondi tondi. La situazione è analoga per la luce, da 611 euro, sempre la stessa famiglia che nel 2021 ha speso 611 euro di bolletta della luce, che è un bel pagare, 611 euro sono una cifra. Come no, certo. Nel 2022 ne spenderà 1.125, quindi vuol dire che è quasi raddoppiata, vuol dire che ci sarà un'impennata inflattiva, perché ovviamente queste voci portano, fanno un po' da volano all'inflazione, poi vedremo alla Banca Centrale Europea come reagirà, perché come sappiamo, a differenza della, io lo dico spesso, ma è importante dirlo, a differenza della Federal Reserve, la Banca Centrale Europea ha un vincolo ben preciso, quello di domare l'inflazione, di tenere il più possibile vicino al 2%, e quindi non può permettersi di aprire e chiudere i rubinetti del credito per favorire lo sviluppo quando questo può danneggiare l'inflazione, quando può danneggiare i prezzi, e quindi favorendo l'aumento dei prezzi, e quindi bisogna vedere come andrà avanti. Come vedi il quadro è molto molto forte. Peraltro tu hai riporato delle simulazioni, però non mi senti interrompo, ma l'inflazione al 3,9%, che sono i dati ISAT che ci sono arrivati nelle ultime ore, è salita l'inflazione, quindi a dicembre parliamo di un top, certamente, però almeno così ricordiamo anche a quanto siamo, parliamo di un top dal 2008, quindi l'inflazione non era così alta dal 2008, determina, questa inflazione al 3,9%, determina una stangata media da più, 1.198 Euro annui a famiglia, queste sono le stime. Tra l'altro quando ti parlavo del mercato dell'energia, io ti parlavo del mercato protetto, il cosiddetto mercato protetto, perché se noi sconfiniamo nel mercato libero, le tariffe sono addirittura triplicate. Figuriamoci. Mi domando se abbia avuto senso per tante famiglie passare al mercato libero, visto quello che poi è successo dal punto di vista degli aumenti, capisci? Sì, sì. Ci siamo avventurati, molti di noi si sono avventurati in mare aperto, il mare aperto poi ha determinato tempesta e quindi ci siamo trovati in mezzo alle bufere. Certo. Quindi conviene ancora cambiare quello che si chiedono in molti proprio per un problema dovuto agli aumenti che sono stati triplicati nel mercato libero. Esatto. Poi oltretutto adesso il governo sta intervenendo, calmerà, insomma aiutando le fasce più deboli. Il governo è sicuramente intervenuto, ha fatto molto soprattutto per le fasce più basse con la manovra finanziaria che è diventata legge con la legge di bilancio del 31 gennaio del 2021, il governo ha stanziato 1,8 miliardi di Euro per cercare di contenere questo aumento delle bollette di energia elettrica e del gas. Ha abbassato l'IVA sul gas del 5%, ha tagliato le bollette per un importo totale di quasi un miliardo di Euro, ha permesso di rateizzare i pagamenti delle bollette per i primi quattro mesi dell'anno. Insomma l'autority un po' ha agito e ha suggerito dei belli. Però la crisi esogena è talmente incontrollabile, imponderabile che… Ecco, infatti, volevo arrivare lì. Insomma è stato un tampone, ma scusate il gioco di parole. No, no, volevo, volevo… Eh lo so, volevo arrivare lì. È stato un tamponare però delle conseguenze che sono lo stesso gravi. Volevo arrivare proprio lì nel senso che peraltro, proprio perché stiamo parlando di quelli che saranno i temi ancora per il 2022, non è che dopo domani le bollette diventeranno, cioè si dimezzeranno. Quindi sicuramente bene l'intervento per aiutare soprattutto chi non può pagare… Insomma parliamo di persone che non possono proprio pagare luce, gas e anche perché piuttosto che non pagare quelle… scusami, non pagare per esempio spese come il mutuo di casa, non si pagano queste bollette. Il problema è che però servono la luce, il gas. Quindi bene l'aiuto immediato, però questo è un problema che rischia di diventare strutturale, almeno per una buona parte del 2022, quello dei pre… Esattamente, quindi insomma… Dici bene caro Manuel, infatti tanto è vero che contro queste crisi strutturali occorrono interventi strutturali. Appunto. Di dare un salasso per le tasche dei consumatori. Quindi bisogna che queste misure, questi tamponi che sono stati messi lo scorso anno diventino strutturali, diventino correnti. Perché ci sono anche delle proposte per un approccio strutturale a questi aumenti, a questo caro bolletta, ma insomma c'è dibattito anche nel mondo politico per come agire. Ah no, certo, certo. Sicuramente io credo che anche noi dobbiamo fare la propria parte. Quando c'è un problema come questo, quando c'è un problema legato all'inflazione, l'inflazione viene definita la tassa dei poveri, perché evidentemente se non ha uno stipendio minimo con l'inflazione ne risente tantissimo, lo sente proprio sulla carne, scusate la metafora, invece se uno ha uno stipendio buono, diciamo se è un ricco, un aumento dei prezzi non gli causa, non è la fine del mondo. Quindi è proprio un problema sociale, è un problema di attenzione alle fasce sociali più deboli. È una bestia l'inflazione, perché prende soprattutto erosica, ovviamente, chi ha meno, chi ha meno... Assolutamente sì, assolutamente sì. È giusto che tutti quanti facciamo la propria parte per combattere questo problema. L'inflazione quando è legata a un aumento dei salari, eccetera, è anche qualcosa di positivo, quando i mercati scintillano, quando i mercati vanno bene. No, no, certo, è detto bene, non è sempre una cosa negativa. Non è questo il caso, c'è addirittura il rischio di una stagnazione, di una stagnazione dell'economia e dell'inflazione, come negli anni settanta. Allora, io credo che tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, soprattutto, scusate, non è una cosa campata in area, soprattutto per la responsabilità sanitaria, non è più possibile che dobbiamo fermare la ripresa economica ancora, perché c'è gente che non si vaccina... E appunto, caro Francesco, lì volevo arrivare. Allora, è tutto assolutamente collegato, anche perché poi, se parlavamo di un problema strutturale, il problema è che se non riparte l'economia, perché i prezzi hanno cominciato ad alzarsi adesso tra le tante cause? Perché la domanda ha superato l'offerta, lo sappiamo bene, è una legge economica molto semplice, non si è riuscito a far fronte anche alla richiesta quando piano piano la ripresa economica, o meglio, le attività sono ripartite, però non sono, diciamo, l'economia non è ripartita in toto, quindi con questa incognita che abbiamo, del fatto che davvero potremo riattivare tutto, resta anche l'incognita per far vedere che è sempre tutto collegato in economia e finanza, appunto, dei prezzi che aumentano. E volevo arrivare lì proprio per questo, perché una frenata alla ripartenza di tutte le attività, senza avere più pensieri, è legata proprio al Covid, che insomma, ce lo stiamo tenendo stretto, no, questo, questo Covid. Vaccino, allora, dicevo, lì volevo arrivare. Notizia freschissima, dopo ovviamente un po' di tensione all'interno della maggioranza, perché era un tema molto, molto delicato, il Consiglio del Ministro ha dato il via libera all'obbligo di vaccinazione per gli over 50, inizialmente si era parlato di 60 barra 65, ma è sceso, gli over 50 potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, sostanzialmente appunto devono essere vaccinati e poi anche se guariti si dovranno vaccinare dopo sei mesi, quindi comunque l'obbligo del vaccino rimane assolutamente. Dimmi cosa pensi di questa decisione, però ti aggancio anche a un'altra domanda, è giusto averlo fatto solo per una, questa fetta di popolazione, cioè gli over 50 o tu avresti tu, parliamone così, poi non sta a noi decidere ovviamente Francesco, avresti agito diversamente. Non è giusta, ti spiego perché, perché al di là della ripresa economica che aveva favorito evidentemente dopo aver debellato la pandemia, c'è un problema proprio di vite umane e non lo dico io, lo dicono i virologi, lo dicono gli scienziati, lo dicono le statistiche soprattutto, il virus è più letale, più pericoloso per quelli che hanno la mia età, io ho 58 anni, quindi faccio parte di questa fascia, dai 50 in su, non è un caso che sia stata scelta questa fascia, perché questa fascia è quella che rischia di più, tanto è vero che ieri Draghi ha detto guardate che al primo posto c'è quello di salvare vite umane, quindi questa decisione non la prendiamo a cuore leggero, anzi la prendiamo con grande responsabilità, perché quando si tratta, perché al primo posto per una nazione, per un popolo, per uno Stato è salvare le vite umane dei cittadini, salvare le vite dei cittadini, scusate, quindi è una decisione assolutamente sensata, io poi tra l'altro la penso un po' come Macron che ha detto guardate cari Novax, noi faremo di tutto per infastidirvi, per vendervi le fitte difficili, per entrare nei ristoranti, ha suscitato delle problemiche pazzesche, è una cosa, io non ho mai, io insomma non ho mai, mi interesso di politica da 30 anni, non ho visto un Presidente della Repubblica che parla in questi termini nei confronti dei cittadini, perché sui cittadini, poi è gente che vota, è gente che di solito è un politico per senso istituzionale, non tratta così i propri cittadini, invece lui è stato brutale proprio, ha detto guarda vi renderemo la vita difficile, perché? Perché la situazione è talmente drammatica, perché è così assurdo che la gente non capisca che i vaccini sono fondamentali per debellare questa pandemia, per salvare vite umane, per favorire la ripresa, per salvare la gente, per evitare che finiscono in terapia intensiva, per evitare che tanti giorni vadano in fumo, in malattia, e quindi è assolutamente un provvedimento sacrosante, ho tenuto conto che non ci sono effetti collaterali, però Francesco ti faccio questa domanda, assolutamente, ti faccio questa domanda che si ricollega sempre al tema del fatto che non possiamo permetterci di non far ripartire il paese a livello economico, bisogna però pensare anche una cosa, resterà sempre, sempre, poi qualcuno si farà convincere, ma resterà sempre una parte di popolazione che non si vorrà vaccinare, ok? Questo cosa significa? Che non potrà più andare al lavoro, prendere l'autobus, prendere il treno, insomma, non potrà più fare tutte quelle cose che invece se si ha un vaccino fatto, si possono fare. Questo non ti preoccupa, magari non allo stesso modo, attenzione, con una potenza diversa, ma non ti preoccupa lo stesso, cioè questo non potrebbe frenare comunque a sua volta l'economia, perché insomma, se la gente non va al lavoro è un problema, se si fermano delle attività produttive, non in toto intendo dire, però perché mancano dei pezzetti, perdonate, per pezzetti intendo dire proprio delle persone che lavorano, insomma anche questo potrebbe penalizzare la ripresa effettiva del paese, cosa ne pensi? Penso che sia assolutamente vero, però è anche vero che insomma di fronte alla prospettiva di non lavorare, di vaccinarsi, credo che anche il più agguerrito dei Novavax scelga la prospettiva di vaccinarsi, addirittura arrivare a... è vero che abbiamo visto scene dell'allucinante di gente che rifiuta il casco dell'ossigeno, purtroppo... Eh, quello che sto dicendo, bisogna mettere in conto un po' tutto, sai? Sono episodi diciamo un po' estremi, io credo che la maggior parte di coloro che non si sono ancora vaccinati lo fanno per dei, non dico legittimi, ma per dei comprensibili timori che però adesso devono svanire, perché tra la prospettiva di perdere tutto e quella di vaccinarsi senza peraltro conseguenze particolari, perché non ci sono stati casi rarissimi, no? E del resto le medicine hanno questi effetti collaterali, non è che l'aspirina, l'aspirina mi pare che in un caso su mille provoca un'emorragia e quindi la scienza è questa, la medicina è questa, dobbiamo assolutamente fidarci della scienza perché è quella che ci sta facendo uscire da questa terribile pandemia e affrontare un tantino più serenamente questo durissimo anno che si aspetta. Non sarà un anno facile, chi si chiude che sia un anno facile è soltanto una persona un po' giuliva diciamo, perché questo sarà un anno difficile, ma sarà l'anno della ripartenza. Senti, è chiaro che da quando c'è la pandemia di Covid, l'emergenza Covid, adesso si conoscono più cose naturalmente, però per certi versi abbiamo proceduto non noi, ma insomma come paese, ma come tutti gli altri paesi un po' a piccoli passi e anche a tentativi. Per esempio faccio un po' l'avvocato del diavolo, c'è chi potrebbe dire ma come? Ci avevano detto che con i vaccini e comunque in Italia l'80% anzi di più della popolazione è vaccinata, con i vaccini non ci sarebbe stato più bisogno di ricorrere a restrizioni, perché comunque la situazione, perché avremmo raggiunto presso l'immunità di gregge, non ci sarebbe stato più bisogno per esempio di fare tamponi, non è così oggi, perché? Chiaramente perché è arrivata la nuova variante Omicron che ha come dire sballato un po' tutti i piani, però chi non vuole vaccinarsi lo zoccolo duro e noi dobbiamo tenere conto di queste persone, perché fanno parte di noi, cioè sono cittadini come lo siamo io e te, quindi lo dico veramente in modo, in modo, cioè con coscienza. Loro potrebbero dire beh ma allora sarà sempre così e allora non mi fido di quello che mi state dicendo, perché comunque non cambia niente. Allora, l'ho detto in modo molto, molto, molto vago e veloce, perché ovviamente però credo che si sia capito dove voglio arrivare. Cosa rispondi Francesco? Il vaccino non è la terapia, ci si può contagiare lo stesso, ma è la prevenzione, cioè chi è vaccinato rischia molto ma molto di meno, ma quando dico molto di meno lo dico a livelli esponenziali, può esserci una percentuale di popolazione che non risponde, il cui sistema immunitario non risponde anche col vaccino, ma si tratta di casi minimi. La verità che è assolutamente comprovata da quello che sta succedendo è che chi è vaccinato non rischia la vita e non rischia neanche di andare in terapia intensiva oppure ha dei rischi assolutamente minimi, tanto è vero che non dobbiamo rinunciare alle misure di protezione, non è che chi è, io per esempio ho la terza dose, ma non ho nessuna intenzione di rinunciare alla mascherina, al distanziamento, a frequentare lo possibile. Adesso è obbligatoria la mascherina, quindi anche fuori. Sì, ma al di là dell'obbligo, qui è una questione di responsabilità individuale, è chiaro che il rischio c'è sempre, ma è un rischio assolutamente minimo, rispetto invece al rischio reale, molto realistico invece di finire in terapia intensiva se non si è vaccinati. L'altra volta ho avuto la disgrazia di portare la mia mamma al pronto soccorso e parlavo con un'infermiera che mi spiegava, lo dico, parlo proprio per presa diretta, gli diceva guardate chi è vaccinato non è che non si prende, io per esempio mi sono preso il Covid, mi diceva questo infermiere, ho avuto una settimana un po' di influenzina, 39 di febbre, poi 38, 37, insomma in una settimana me la sono cavata e io gli ho detto quasi distrattamente, invece quelli che arrivano senza vaccino e questo mi fa, ah beh quello non c'è problema, ma li intubiamo direttamente. No beh allora è chiaro ovviamente io mi baso come te, vediamo di svegliarci, il primo problema è la nostra vita, poi ci sono tutte le altre considerazioni da fare che stiamo facendo dall'inizio del collegamento, cioè dobbiamo favorire la ripresa, che finché non debelliamo la pandemia il paese non può ripartire, ma al primo posto c'è la vita umana, la propria vita umana. Ecco, sì 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 ma io sono d'accordissimo, però siccome ti voglio chiedere altre due cose più velocemente ovviamente, però è tutto collegato, oltre al discorso dell'obbligatorietà del vaccino per gli over 50 si stanno prendendo decisioni rispetto alla ripartenza della scuola e del lavoro, lavoro non che si sia fermato, però si sta un po' valutando lo smart working come renderlo effettivamente uno strumento che la maggior parte delle imprese possano e riescano a sostenere, perché non è neanche facile da sostenere, bisogna farlo in modo giusto, noi non ci basiamo ovviamente sullo smart working che abbiamo messo in atto appena è partita tutta l'emergenza, quella è stata una cosa raffazzonata, perdonatemi il termine un po' troppo popolare, ma insomma ci siamo capiti. Anche la DAD, didattica a distanza, adesso si sta dicendo che si andrà in DAD per 10 giorni se ci sono 3 positivi nella stessa classe, però se con un positivo è prevista l'autosorveglianza, a me sembra un po' troppo macchinoso Francesco, questo contribuisce al fatto che il paese possa non ripartire nel giusto modo ed è vero che la salute è al primo posto, però è anche vero che ci saranno sempre dei contagi, lo abbiamo detto, anche se ci vacciniamo tutti, perciò non è neanche possibile continuare ancora oggi a dire beh ma se ci sono 3 positivi facciamola da, perché non si va da nessuna parte così, credo che tu sia d'accordo con me. Guarda, la didattica a distanza dal punto di vista scolastico è quanto di più ingiusto ci possa essere su questa terra, perché c'è chi la didattica a distanza la può fare con un bellissimo Mac ultima generazione, in una cameretta ovattata, con la mamma che gli fa la colazione, con i libri a disposizione, con tutto il materiale scolastico, in una situazione veramente comoda e c'è chi non ha il computer che non ha neanche il computer, non ha neanche il telefonino giusto, lo smart work per collegarsi, magari deve fare i turni col computer perché in famiglia sono in 5 e hanno un computer solo, quindi tu ti puoi immaginare la difficoltà di fare didattica a distanza in questa maniera. Certo. Quindi la didattica a distanza è anticostituzionale da un certo punto di vista, perché è contro l'articolo 3 della Costituzione che dice che tutti dobbiamo avere pare condizioni per il nostro benessere, per la nostra formazione, per la nostra crescita come persona. Detto questo, è sempre meglio che morire. Quindi se una classe si infetta, ragazzi non c'è altro da fare che la didattica a distanza, qui è come nella stessa condizione di quando i primitivi salivano sulle palefitte per non essere divorati dai leoni che circondavano la floresta. Però così continuiamo, è chiaro che dobbiamo provvedere alla didattica a distanza quando ci sono dei pericoli, quando questa quarta ondata sta mordendo, io non conosco… Allora voglio fare ancora più la provocatoria però a questo punto Francesco, perché è vero, ci mancherebbe se in una classe c'è un contagio, non è che si può far finta di niente… No, ma poi ci sono anche i no-vax in classe… No, 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 ma aspetta, assolutamente, però mi chiedo… Non è che ci sono molti ragazzi che vaccinano, perché loro famiglia non vaccino. Ascoltami un secondo però, perché se no non riusciamo a dire quello che voglio dire. Certo che è ovvio che c'è dappertutto chi non vuole vaccinarsi, quindi ci sono anche dei bambini perché sono di famiglie che contro il vaccino. No, però la provocazione è questa, ci hanno detto in tutto questo tempo come fare a risolvere le problematiche che si sono verificate nella DAD e anche nello smart working, come dicevo poco fa, perché quello che abbiamo fatto mesi fa non era lo smart working reale, così come la didattica a distanza con le problematiche che hai messo in evidenza tu, ma anche con i vari problemi di linea, connessione, ma anche la confusione che si è creata, era accettabile nella prima parte del Covid, quando non sapevamo veramente che pesce pigliare, ma nel frattempo ci hanno detto come risolvere questi problemi? No, e allora per quello che dico, bene salvaguardare subito le vite umane, ci mancherebbe altro e quindi appena ci sono i contagi, via, tutti a casa, ho capito, e poi tutti a casa e cosa si fa? Ancora torniamo ai problemi che avevamo originariamente? Questo non va bene, questo secondo me non è il risultato di un paese che si è che ha preso in carico realmente il problema, il problema nella sua interezza, non solo relativamente a quanti contagi abbiamo, che tasso di positività abbiamo e quanti tamponi vengono effettuati ogni giorno, perché altrimenti una ruota che gira facciamo i criceti che giriamo come dei pazzi senza arrivare a una soluzione. È questo. Abbiamo capito come fare con la DAD per risolvere i problemi? No, non abbiamo capito e anzi, mi pare che la scuola sia proprio il simbolo di questo disorientamento che regna sovrano nel paese. Se voi pensate che la variante Omicron aggredisce particolarmente i bambini, è stato provato, la cosa migliore da fare secondo me sarebbe partire o quantomeno ritardare la presenza a scuola, perché in questo momento è quasi certo che una classe subirà dei contagi e quindi poi li diffonderà. Che senso ha tornare a casa, cioè tornare alla DAD dopo che la gente sia infettata? Bisogna evitare che si infetti prima, quando le stalle ormai, più delle le stalle quando poi sono scappati, quando i contagi sono arrivati in questo caso. Quindi io penso che anche il Ministro Bianchi, che è una persona molto stimabile, che ha una grande esperienza in campo scolastico, dice che noi dobbiamo provvedere sia alla sicurezza dei ragazzi che alla loro istruzione. Ho detto che questo lo sanno tutti, darci delle risposte. Questo vuol dire tenete la distanza quando è possibile e quando non è possibile che facciamo? No, no, ma io sono d'accordo e tu hai detto che senso ha… A me pare più sensata la proposta delle regioni che hanno proposto di partire con la didattica a distanza, aspettare che ci sia il picco dei contagi e poi quando la stazione è un po' più tranquilla ritornare in classe, perché altrimenti se noi torniamo in classe in questa situazione non ne rimarrà una di classe in presenza. Ho capito, io sono d'accordissimo, infatti la proposta delle regioni è assolutamente sensata, però ripeto, come hai detto tu, che senso ha parlare di tornare in classe quando ci sono ancora tantissimi contagi e quindi è già, però io dico anche che senso ha parlare di dad quando non è una didattica a distanza. Quando sappiamo benissimo che se, ed è cosa buona e giusta, si decidesse di non far rientrare i ragazzi a scuola, di farli studiare da casa, sarebbero settimane perse o comunque non sarebbero settimane produttive. Sarebbero settimane molto difficili per i motivi che ti ho detto tu. E i genitori che devono andare a lavorare cosa fanno? Chi è che li aiuta? Esatto, ci sarebbero problemi anche per i genitori. Però capisci che a me sono queste le cose che, al di là di tutto il ragionamento è doveroso da fare rispetto a dei contagi che sono ancora elevati e quindi che non possono essere sottovalutati né tantomeno ignorati. A me fa strano che non si alzi la mano tutti nel chiedere, bene, noi teniamo anche i nostri figli a casa, ma io che lavoro, io genitore che devo, cosa faccio? Mi avete, non è che mi devono trovare la soluzione dal governo ovviamente, ma a livello strutturale sì, di welfare sì, il paese… Beh, una soluzione potrebbe essere quella dello smart working, il mio giornale per esempio da, mi pare dall'altro ieri è ufficialmente smart working perché l'azienda ha ritenuto che la situazione è tale che è in redazione, infatti io come vedi sto facendo il collegamento da casa mia, mi sarebbe chiesto farvi vedere la redazione anziché la recensione di casa. Vedrai che prima o poi ce la farai vedere la redazione, anzi ti dirò di più, prima o poi, così ti saluto, ci verrai a trovare qui in studio e faremo o non in più in collegamento e io ti verrò a trovare in redazione Famiglia Cristiana. Molto volentieri, sì, sarete graditissimi ospiti. Perfetto, allora Francesco io ti ringrazio moltissimo. Arrivederci, grazie, buona epifania. Esatto, buona epifania, ma soprattutto buona ripresa a tutti incrociando le dita, va bene. Questo è il punto, perché poi parlando emerge la gravità della situazione, ma non solo quella dei contagi, quella per cui su certi aspetti non abbiamo fatto nessun passo avanti e purtroppo è così, lo abbiamo detto in questo breve collegamento. Ci torneremo. Pubblicità, tra poco parliamo di mercati e di valute con le previsioni per il 2022. Grazie.